Ciao, se stai vedendo questo video è perché sicuramente ancora non hai acquistato il biglietto per il primo BDS che si terrà a Roma il 28 di ottobre. Sarà un evento pazzesco, un evento che ti donerà un'energia unica. Voglio raccontarti una storia molto importante, una storia che mi ha permesso di raggiungere grandi traguardi in questa fantastica attività, in questa fantastica industria. Circa dieci anni fa ho iniziato la mia prima attività nel multilevel classico e posso dirti una cosa, per i primi sei mesi ho ottenuto zero risultati. Perché ho ottenuto zero risultati? Perché portavo avanti quell'attività a modo mio. Non volevo ascoltare nessun consiglio, non avevo partecipato a nessun evento e dopo sei mesi i miei risultati erano a quota zero. Poi decisi di prendere una direzione giusta, decisi di partecipare al primo evento nazionale di quell'azienda. Proprio in quell'evento la mia consapevolezza verso quell'attività cambiò radicalmente. Acquisì le giuste competenze, appresi anche della potenzialità di quell'attività. Io avevo allora una mia attività commerciale, quindi in concomitanza la mia attività commerciale portava avanti quel tipo di attività. Quindi grazie a tutte quelle caratteristiche, grazie a tutti quei valori aggiunti che mi aveva donato comunque quell'evento, la mia attività da zero passò a 100. Mi spiego meglio, avevo zero incaricati, zero fatturato e dopo quell'evento in circa 30 giorni la mia attività prese una direzione pazzesca. Da zero incaricati in 30 giorni passai a 100 incaricati. Il fatturato arrivò comunque alle stelle e quindi quell'evento mi aveva dato la chiave d'accesso per raggiungere grandissimi risultati. E dopo dieci anni oggi voglio dirti con tutto il mio cuore che un evento del genere può cambiarti radicalmente la tua attività, può cambiare radicalmente la tua vita. Questo evento sicuramente ti donerà gli strumenti giusti per raggiungere grandissimi risultati, ti donerà la giusta energia, ti darà la possibilità di conoscere tantissime storie di successo che ti ispireranno, che ti daranno la giusta motivazione per andare avanti. Quindi se in questo momento hai poca motivazione, se in questo momento hai bassissimi risultati, allora dovresti essere il primo ad acquistare questo biglietto. Perché questo biglietto ti darà la possibilità comunque di fare una crescita pazzesca, ti darà la possibilità comunque di migliorare la tua vita e migliorare la vita di milioni di persone. Quindi in questo momento hai una grandissima responsabilità, se ottenere successo o se continuare a fare le azioni che fino ad oggi magari non ti hanno permesso di produrre dei risultati. Quindi fai la scelta giusta, decidi di acquistare questo biglietto, dai fiducia alla persona che ogni giorno magari ti sta dicendo, dai acquista il biglietto, vieni con me, e sicuramente sono certo e sono straconvinto che dopo questo evento tutto cambierà. Quindi fai l'azione giusta, perché senza cambiamenti non arrivano novità, acquista immediatamente questo biglietto e vieni a partecipare insieme a noi a questo fantastico evento, a questa fantastica realtà chiamata Do Life. Perché grazie a questo evento i tuoi risultati cambieranno in maniera straordinaria. Quindi acquista subito il biglietto, chiedi subito informazione alla persona che ti ha inviato questo video e inizia subito, unisciti insieme a noi, perché insieme possiamo diventare qualcosa di straordinario. Grazie. Grazie. Grazie.